Bella raga, qua è Savix che vi parla, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale Oggi vi porto il metodo per trasferire i loghi dalle magliette speciali ai nostri outfit ragazzi Quindi vi mettete dentro l'autofficina e a questo punto vi fate un cambio stile Vi selezionate l'outfit dove volete il logo e a questo punto ci giriamo qua dal guardaroba, facciamo freccia a destra Andiamo su parti superiori e poi andiamo a cercarci le parti speciali Una volta che siamo su parti speciali ragazzi, il numero 24 andiamo su stazioni radio per esempio Io sceglierò maglietta K rose e a questo punto la seleziono Una volta selezionato, start online, trova nuova sessione a inviti E una volta che saremmo spawnati ragazzi nella lobby Possiamo fare sbada bam raga Guardate che bomba super facile, veramente una figata Come tutti i glitch di rockstar ragazzi purtroppo dobbiamo fare dei sacrifici Non possiamo salvarlo su qualsiasi outfit perché come vedete su alcuni outfit appena cliccate per salvare la maglietta Quindi il vestito despaunerà il logo della maglietta Quindi cosa dobbiamo fare per salvare gli outfit con questi loghi raga Dobbiamo tentare e cercare di capire su quale parte superiore si può salvare Io dopo vari tentativi ne ho trovato uno funzionante ragazzi Se voi volete sbizzarrire a vedere su quale outfit si può salvare il logo Fatemi sapere nei commenti la categoria Così tutti quanti potremmo usufruire di questo fantastico glitch super facile Adesso vi faccio vedere quindi come dovrebbe essere e come dovrebbe funzionare Andiamo qua dal guardaroba Ci mettiamo ragazzi una felpa Quindi andiamo su parti superiori Andate su felpe che con quelle funziona sicuro Poi se trovate qualcos'altro ve lo ripeto fatemelo sapere nei commenti Io metterò ragazzi questa bianca tanto per farvi vedere A questo punto andrò a salvarmi l'outfit Lo salvo con il nome DP per esempio Prova ragazzi Tanto per E una volta che l'abbiamo salvato Idem compattate come prima Andiamo su parti superiori Andiamo sugli speciali raga Una volta su speciali andiamo su quelle radio E andiamo a mettere questa qua per esempio rossa con la rosa Che a me piace parecchio Una volta che abbiamo messo questa maglietta Semplicemente start o touchpad se giocate la PS E fate trova nuova sessione ai viti Una volta che saremo spawnati nella nuova lobby ragazzi Possiamo dire Sbada bam Avremo messo il logo sulla felpa Adesso raga freccia destra guarda roba X quadrato se giocate la play per salvare E come potete vedere potremmo salvare il logo Con la maglietta mergiata Quindi ragazzi Trovate voi le felpe funzionanti Lasciate un like se vi è piaciuto il video Abbonatevi se volete supportarvi alla grandissima E alla prossima Bella raga Sbada Bam Abbonatevi se volete Abbonatevi se volete